Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Il sole sorge alle 5.51 e tramonta alle 20.25. La luna si leva alle 12.53 e tramonta alle 1.57. Consacrazione della chiesa di San Zaccaria a Venezia, fondata nel IX secolo, fu ricostruita in due tempi a opera degli architetti Antonio Gambello e Mauro Coducci, che la portò a compimento. Considerata una dei più tipici esempi del rinascimento a Venezia, godeva l'alta protezione della Signoria Veneta, che ogni anno, nel giorno di Pasqua, vi si recava a sentire il vespro in segno di gratitudine nei confronti delle monache che avevano donato alla Repubblica il brolo del loro convento per ampliare Piazza San Marco. Le previsioni per domani. Tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche locale addensamento nuvoloso, specie sulla pianura centro-meridionale, nelle prime ore e sui rilievi dalle ore centrali. Precipitazioni generalmente assenti, temperature in pianura, variazioni generalmente lievi e di carattere locale, in montagna, minima in contenuto calo e massima in contenuto aumento.